C'è anche Estra sul podio delle 12 migliori imprese sostenibili sulle oltre 1500 censite inserite da Consumer Lab nell'index Future Respect che accerta chiarezza, trasparenza e accessibilità dei bilanci. Estra fornirà il riscaldamento alle amministrazioni pubbliche di Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Estra si è giudicata a tre lotti della gara CONSIP per un valore di 243 milioni di metri cubi di gas. Estra e l'Istituto Superiore Energia e Ambiente di cui Estra è socio hanno ricevuto dalla Camera di Commercio Italo-Tedesca il premio Eccellenza Duale 2021 per i progetti di alternanza scuola-lavoro. Estra installerà il prossimo anno a Montespertoli sei colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Le sei postazioni del comune del Chianti-Fiorentino saranno in funzione 24 ore su 24. Grazie a tutti!